Siamo a Milano nella sede di Beni Stabili dove la SIC ha presentato i conti 2015 e il piano di rilanzo della società dal titolo una buona base per la crescita. Siamo qui con Christopher Kuhlman, CEO di Beni Stabili e noi parliamo del nuovo plan della società. Grazie, buona mattina. Sì, abbiamo pubblicato i conti 2015 e in questa presentazione abbiamo raccontato dove vogliamo andare per la strategia della società. Lo che è chiaro è che vogliamo aumentare la rotazione del portfolio della società. Siamo fare più investimenti, più disposizioni, con l'idea, con l'intenzione di aumentare il nostro portfolio in Milano. Oggi siamo a 45%, vogliamo andare a 80%. Secondo, vogliamo aumentare la parte della ricerca. Iniziamo a 20% di lungo termini, 50%. E thirdo, vogliamo ridurre il rischio singolo di tene, che significa l'exposione che abbiamo con Telecom Italia, che è un tene molto buon tene, ma che abbiamo fatto oggi, 41% del valore del assetto e 50% del rento. La nostra idea è ridurre il rischio di 20-25% del valore del portfolio in la lungo termini. Come fare questo? Quale è il plan per cui è l'obiettivo? Prima, vogliamo lanciare un plan forte di CapEx sull'assette che sono vacanti nel portfolio di Benistabili. La totalità di vacanza del valore del non-Telecom Italia è oggi 14%. Quindi, la maggior parte delle azze che sono vacanti, sono in un buon locale, ma ne necessitano CapEx per essere usciti sul mercato. Quindi abbiamo deciso di un plan di 60 milioni euro che sarà in place nei prossimi due anni, e questo creerà 16 milioni euro di nuovo riferi per la firma in futuro. Secondo, vogliamo aumentare la pipeline di sviluppazione del valore del valore. abbiamo deciso di lanciare l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso, l'anno scorso l'anno scorso. Abbiamo una grande operazione e oggi abbiamo una discussione con potenti alternanti per rincare l'anno scorso l'anno scorso. Abbiamo un altro progetto, che è Scevano, anche nel sud di Milano, e stiamo studiando l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso. E in terza, continueremo la disposizione del portfolio, principalmente sui asset telecom itali in prossimi anni. E cosa sull'anno scorso l'anno scorso? Bene Stabilis è una firma di lavoro, oggi abbiamo 91% dell'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso. Chiamo continuare ad aumentare l'anno scorso l'anno scorso e questo è un mercato che abbiamo deciso di investire in futuro. Ci sono alcuni rumori sui possibili delisting della società, potete commentare? La nostra priorità è la performance operazione. È proprio quello che stiamo facendo oggi. Stiamo lavorando molto in questa direzione. Se mi cambiare la mia attenzione, perché sono anche il CEO di una grande partenza di Fonciere delle Regioni, a Fonciere delle Regioni, vogliamo mantenere un'opposizione di circa 20% per l'Italia. E questo è il mercato che abbiamo.